Ciao, 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 ciao. Sono Gloria e oggi qui volevo farvi vedere come trascorrono le giornate a casa o in giro. Allora, io di mattina... Allora, d'estate vado tutti i giorni al mare. Quando i miei genitori sono arrivati al mare. Poi torno e semmai riesco di notte. Ieri c'era Fausto Leali che ha fatto il concerto e... Siamo tutti organizzati e siamo usciti tutti insieme in giro per Palau. Mentre i nostri genitori erano tutti seduti in piazza per ascoltarlo. E quindi... Ciao a tutti.